Gustavo Roll. Buca una carta e la duplica. Seduta del 18 giugno 1977, in casa Visca, presenti Nuccia Visca, Doretta Innocenti, Remo e Del Selugli. Roll fa scegliere da un mazzo quattro carte al cui valore fa corrispondere altrettante lettere. Risulta la parola, buco. Dice, evidentemente dobbiamo bucare qualcosa anche stasera, allude all'esperimento di dieci giorni prima, quando ha diviso in due una carta seguendo la traccia di un riquadro interno. Fa scegliere a Doretta una carta che rimane coperta e sconosciuta, la fa mettere da parte, come carta campione. Poi, sempre a Doretta, fa scegliere da un altro mazzo una carta scoperta e lei sceglie un jolly rosso, Roll ci fa controllare questo mazzo e possiamo constatare che c'è il jolly nero ma non c'è più il jolly rosso, che abbiamo prelevato. Ora questo jolly rosso, Gustavo lo prende fra le dita e, mentre nessuno di noi si aspetta l'avvenimento, batte leggermente al centro un piccolo colpo con l'unghia dell'indice destro. Dal punto battuto cade un perfetto dischetto di 18 mm di diametro, che comprende il viso del jolly. Lo osserviamo attentamente e constatiamo che i bordi del buco e del pezzetto asportato presentano quella sottile zigrinatura, tipo francobollo, che si era riscontrata sulla carta strappata la sera dell'8 giugno. Ci stupiamo come il fatto sia avvenuto senza apparente fatica e in brevissimo tempo. Certo, risponde Roll, non era più la prima volta che compivo questo esperimento e non ho avuto alcuna difficoltà. Sempre seduti al tavolo e con Roll di fronte, ci soffermiamo a commentare il risultato. Lui richiama la nostra attenzione sulla carta che avevamo estratto come campione dall'altro mazzo. Dice, andiamo a vedere che carta è, e vediamo anche se si è ripristinato, nel mazzo dal quale abbiamo estratto, il jolly poi bucato. Giriamo la carta campione e vediamo che è un jolly rosso. Quindi passiamo in rassegna le carte del mazzo dal quale avevamo tolto il jolly rosso, e constatiamo che non manca. Con nostra grande sorpresa, infatti, troviamo sia quello nero, sia quello rosso, eppure continuiamo ad avere davanti a noi, sul tavolo, il jolly rosso bucato. Confrontiamo il dorso delle due carte e vediamo che il nuovo jolly è identico a quello forato, il dorso è rosso acceso e al centro vi è un circolino con scritto, sai, poiché si tratta di mazzi pubblicitari di questa società.